L'emergenza Covid è stata al centro dell'informativa al Consiglio regionale del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. Il Presidente ha fatto un quadro della situazione e delle misure già varate. Incremento delle unità USCA per gestire a domicilio i malati di Covid meno grave ed evitare troppi accessi al pronto soccorso o ricoveri in ospedale. Incremento del numero dei bus per garantire una capienza massima del 50% a studenti e pendolari. Incremento del personale da dedicare al tracciamento dei contatti depositivi. Contributi per i ristoranti tassisti, bar e ristoranti con la possibilità se la curva epidemica scende di fisserà alle 22 la chiusura dei locali. E infine possibili misure di contingentamento degli accessi ai centri commerciali nel fine settimana. Siamo passati dai 2.171 contagi di due giorni fa ai poco più di 1.800 di ieri e 1.700 di oggi danno la sensazione che i comportamenti di autoresponsabilità che si stanno tenendo e la limitazione della mobilità incomincia quantomeno a vedere leggermente assottigliare la curva epidemica. Quindi continuiamo su questa strada e devo dire che l'appello che ho fatto al Consiglio ha trovato maggioranza opposizione su posizioni certo diverse ma complessivamente di responsabilità. Il Presidente Gianni ha rivolto anche un appello alle persone che sono guarite dal Covid nei mesi scorsi affinché donino il loro sangue, molto importante, per sottoporre alla plasma terapia i malati di Covid attuali. Quindi sangue che ha già visto vincere la sfida del coronavirus perché si tratta di chi ha avuto da marzo ad oggi questa patologia e quindi ha un sangue ricco di anticorpi verso il coronavirus. Sotto questo aspetto siamo assolutamente in crisi e conseguentemente io ho fatto un appello per la donazione. Il numero telefonico da chiamare per effettuare la donazione è 055 438 5860.